ciao a tutti amici dello scorpione benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami scorpione tendenza energetiche generali per la prima metà di luglio abbiamo una carta della luna amici dello scorpione può essere un periodo anche di nostalgia un periodo dove si ripensa al passato o dove potrebbero anche ritornare a galla questioni legate al passato non necessariamente devono essere cose possono anche essere magari emozioni sentimenti ricordi piuttosto che persone andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi vi ricordo che le letture sono per un collettivo è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida la trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del secondo semestre anche il primo primo e secondo semestre del 2024 ci sono le previsioni per l'estate e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale allora ragazzi andiamo a vedere un po che aria tira nei primi 15 giorni di luglio poi sapete che faccio una settimana le previsioni generali per 15 giorni poi le previsioni sull'amore per 15 giorni e così via allora abbiamo un 9 di bastoni un 5 di denari la stella un asso di denari un 2 di bastoni un 6 di spade regina di denari 9 di denari e morte allora partiamo da questo 9 di bastoni e da questo 5 di denari sento un po qua la luna probabilmente il 9 di bastoni è una carta che parla di una certa stanchezza in realtà ragazzi e di una certa fatica che potreste vivere nella prima settimana di di luglio ma qualcuno già anche verso la fine di giugno secondo me potrebbe essere una stanchezza dovuta alle tante cose da fare a livello pratico potrebbe essere una stanchezza mentale per qualcuno dimmi vedere carta per carta partiamo dal 9 di bastoni 7 di coppe guardate 9 di bastoni una carta che si indica appunto stanchezza ma è anche una carta che indica il fatto che o si debbano mettere barriere o abbiate messo queste barriere diciamo che avendo qua un sette di coppe o come l'idea che vi siete un po precludendo delle possibilità potrebbe essere di guarigione potrebbe essere di equilibrio non lo so come la sensazione che stiate tenendo fuori dalla vostra vita qualche possibilità che in realtà vi farebbe stare meglio probabilmente per stanchezza probabilmente perché non ce la fate in questo momento a gestire tante cose e quindi è un po come se dicesse no aspetta un attimo faccio fino qui riesco da qui in avanti e invece sarebbe proprio quella roba lì che state tra virgolette evitando che vi farebbe bene andiamo a vedere il 5 di denari tipo non lo so siete scarichi avete bisogno di dormire però in realtà vi invitano a festeggiare ad una cena e voi non avete nessuno voglia di andare e invece in realtà è proprio quello di cui avreste bisogno perché vi ricaricherebbe a livello energetico allora il 5 di denari è spiegato da un 6 di bastoni e dalla regina di spade la gatta è d'accordo allora il 5 di denari è come se parlasse di un qualche tipo di perdita in questo caso sento che come una perdita di riconoscimento una perdita di controllo una perdita potrebbe anche essere di chiarezza mentale per qualcuno probabilmente perché c'è tutta questa sanchezza come dicevamo e quindi c'è un attimo bisogno di una pausa come questa sensazione andiamo a vedere la stella 9 di bastoni di nuovo e 2 di pentacoli si dice come la voglia di prendersi un riposo di cambiare secondo me qualche tipo di situazione o relazione la stella guardate è una carta che mi parla di obiettivi però qui abbiamo anche un asso di denari e un 2 di denari andiamo a vedere perché come se ci fosse una certa incertezza un insicurezza un qualche cosa che non vi permette di iniziare o di andare avanti come voi vorreste cavaliere di coppe e 9 di coppe ragazzi vi dico solo una cosa che mi sono dimenticata di dire prima queste sono stese generali possono ricordare la famiglia piuttosto che gli amici piuttosto che il lavoro io vi dico quale l'andamento energetico più importante e poi video degli esempi per quello che riguarda le relazioni in generale di coppia le relazioni più o meno le relazioni le letture escono la prossima settimana e le ho cambiate sono tra voi e l'altra persona quindi sono per chi ha già più o meno qualcuno in testa poi ci saranno le letture sui singola parte le letture sul lavoro a parte quindi se non volete perdervi niente vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella allora partiamo da questo cavaliere di coppe e 9 di coppe sento che come se ci fosse la voglia di probabilmente creare un certo tipo di armonia intorno a voi che si potrebbe essere con un'altra persona potrebbe essere con un gruppo di persone sento che qualche cosa qui è come se voleste fare qualche cosa di più però per qualche motivo con questo 9 di bastoni perché è ripetuto due volte c'è o stanchezza o impossibilità a o qualcuno potrebbe non avere le risorse fisiche economiche caratteriali per far fronte a questo nuovo obiettivo che voi volete raggiungere questo nuovo inizio andiamo a vedere due di bastoni guardate ragazzi se per voi risuonasse come una situazione lavorativa sento che per qualcuno ci potrebbe essere prendete sempre quello che dico con le pinze perché a me poi spiace sempre dare certe informazioni ma prendetelo come un ok adesso lo so quindi posso comportarmi di conseguenza o prevenire la cosa che vedete un po così però potrebbe esserci qualche perdita di potere all'interno del lavoro una perdita di un riconoscimento la perdita di un titolo cose per questo stile ok allora per i due di bastoni abbiamo una regina di coppe al contrario tra l'altro e 10 di denari voglio un'altra carta per questa regina sono uscite un sacchissimo fante di spade 8 di coppe 7 di spade 4 di coppe 3 di spade io qui ragazzi ho la sensazione che questa luna sarà diciamo la possibilità in questo periodo di rivedere il passato perché comunque voi siete in una situazione di difesa di stanchezza quindi in qualche modo c'è un passato che vi sta stancando o da cui vi siete difesi o da cui vi state difendendo come questa sensazione e qui l'idea è che ci sia come una sorta di introspezione perché abbiamo sia alfante di di spade sia l'otto di coppe che è l'arcano minore dell'eremita e siccome qui abbiamo sia sette di spade che il quattro di coppe che il tre di spade o come la sensazione che ci sia qualche tipo ci sia stata qualche tipo di idea che in realtà ha creato come una sofferenza e questo potrebbe essere il momento giusto per con questo sei di spade allontanarsi da queste idee qui abbiamo un dieci di pentacoli e come se vi toglieste l'insicurezza e andaste verso quelli che potrebbero essere dei contratti un'unione familiare potrebbe essere un allora per qualcuno il dieci di pentacoli potrebbe anche riguardare un pensionamento un pre pensio la fine di una carriera andiamo a vedere sei di spade perché come l'idea che qui vi si diciamo toglierà un po' il dubbio su che cosa fare come vado avanti anche se il gruppo non c'è oppure anche se sono cambiate le dinamiche con questo gruppo come vado avanti in questa situazione devo vedere se li spade dieci di bastoni e fante di coppe ragazzi ho la sensazione che ci sia veramente qualcun tema potrebbero essere anche più di uno però soprattutto uno importante pesante grosso che riguarda la luna che riguarda il passato che riguarda qualche tipo di sensazione emozione potrebbe anche essere paura con questa carta della luna è un'emozione comunque è un'emozione che in questo periodo avete bisogno di sviscerare di di elaborare e di lasciare indietro perché è un'emozione che vi fa sentire innanzitutto la luna è una carta di proiezioni quindi potrebbe essere solo il vostro punto di vista e se noi abbiamo un certo punto di vista che crea sofferenza abbiamo il tre di spade cambiando il punto di vista si cambia anche quello stato di sofferenza ed è quello che andrete a fare quello che sento che in questo periodo lavorerà diciamo con o per voi devo vedere la regina di denari c'è da lasciarsi indietro qualche tipo di questione qui avete due nove di bastoni ma poi tanto un 10 c'è e ruota della fortuna ragazzi guardate la lettura finisce molto bene con 20 o finisce molto bene finisce con un bellissimo cambio allora vi devo dire c'è come una sorta di ripresa del potere personale il nome di denari è una di quelle carte che parla di qualcuno che è completamente indipendente che ha forza di carattere che ha lavorato guardate sono tutti i denari questi e poi c'è anche la morte che mi richiama un po l'energia della ruota della fortuna di cambio quindi è come se vi stesse avvicinando ad un prossimo cambio potrebbe essere un cambio favorevole a livello economico non lo nego perché qui comunque con i dieci di pentacoli vi dicevo che potrebbero entrare nuovi contratti nuovi accordi familiari potrebbero essere delle eredità considerate le tre carte potrebbero essere dei soldi che arrivano in modo inaspettato guardate è come se nella prima parte della lettura il vostro la vostra stanchezza vi portasse un pochettino a pensare in carenza a pensare a quello che non avete avuto a pensare di non essere come vi posso dire c quindi di denari una carta di carenza ok qui è come se si o qualcuno pensa di non aver potere personale in una determinata situazione di gruppo o fisicamente succede che qualcuno perde il potere personale all'interno di un gruppo e questo ve l'ho detto però è come se avesse bisogno di prendere un pochettino la vita con più filosofia in modo un po più leggero perché la luna come vi dicevo pesa un pochettino questi sentimenti queste emozioni prendendo un po più le cose alla leggera e mi verrebbe da dire cercando di non aspettarsi troppo dagli altri qui ho la sensazione che riuscirete voi stessi a capire senza dovervi confrontare troppo o senza aspettare che sia l'altro a fare il primo passo riuscirete a capire che tipo di pensiero in questa situazione o in questa relazione o nella vostra vita in generale diciamo possono essere cambiati per cambiare la prospettiva con cui vedete le cose all'interno di questa di questo gruppo di questa situazione vi dico che cambierete la prospettiva e andando diciamo verso qui si tratta di togliersi i sensi di colpa da dosso le responsabilità le aspettative ho come la sensazione che abbiate bisogno di alleggerirvi un po appunto di prendere la vita un pochettino più con filosofia e da lì vi dico che vi trasformerete nella regina di denari ragazzi quindi per qualcuno arriveranno proprio dei soldi per qualcun altro sarà il lavoro per qualcun altro ancora sarà un'eredità una vincita al gioco delle possibilità in più c'è un qualche cosa che vi porta verso questa rinascita wow è una bellissima lettura amici dello scorpione andiamo a vedere osho che cosa vi vi consiglia ancora wow ruota della fortuna di nuovo e giochi politici un sette di spade ben diciamo che cambieranno un pochettino le maschere se vogliamo interessante perché nel mazzo di osho viene raffigurata questa persona che si toglie la maschera ed è la carta delle anche un po trappole mentali se vogliamo qui c'è un cambio per qualcuno ragazzi vi dirò che potrebbe essere un cambio carmico perché comunque abbiamo carte importanti bene un ultimo cohan per darvi come un messaggio finale prenderò questi due che si sono girati all'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio e casca fagiolo ragazzi la carta della luna perché giustamente la luna viene illuminata solo a metà l'altra metà non si vede è un po come quello che vi dicevo cambiare modo di vedere le cose vi dà la possibilità di anche un po mi viene da dire guarire quella ferita quello che vi dicevo prima le possibilità che state tenendo fuori sono proprio quelle di cui avreste bisogno per rimpolpare un po rivisitare riformulare o determinati pensieri o determinate emozioni inerente delle situazioni del passato poi abbiamo grande comprensione giunge con grande amore questa è una carta bellissima quando ci mettiamo nei panni degli altri per cercare di capire perché hanno reagito in un certo modo perché si sono comportati così è più di più semplice scusate comprendere perché quella persona potenzialmente ha avuto quel tipo di reazione no e poi soprattutto con la comprensione può arrivare anche la compassione cioè io capisco perché tu hai fatto quello e con patisco patisco con te la stessa gioia piuttosto che lo stesso dolore amici dello scorpione questo quello che ho per voi spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere comunque nei commenti mettete like se volete sostenere il canale oppure iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale la sezione degli abbonamenti in realtà è diciamo una specie di scuola dove ci sono per adesso quattro playlist sono numerate in ordine di come andrebbero viste e sono delle spiegazioni ragazzi fondamentalmente di magia bianca cioè sono leggi di metafisica che spiegano come migliorare noi stessi al fine poi di migliorare di plasmare la realtà al di fuori di noi a nostro piacimento fondamentalmente ok quindi magari date un'occhiata ai titoli così vi fate vi fate un'idea sono le playlist che hanno la copertina lilla bene detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao